Gli faccio un po' di geografia, c'è Camuscia, dove è nata la Francesca, la mia moglie. Poi c'è Castiglione Fiorentino, poi c'è la Fossa del Lupo, Fossa del Lupo, Don Cigliolo. Poi c'è, chi c'è qua? E c'è un sacco lì, la Frata, Fogliano, Fogliano, Castiglione, Castiglione, la Terontola! Un bagno di folla e un duetto a sorpresa con Giovanotti, in 6.000, al concerto di Tananai a Cortona, ospitato dallo stadio Santi Tiezzi. L'evento era promosso da Cortona Sviluppo nel programma di Cortona Comics ed ha fatto registrare il tutto esaurito. La manifestazione era iniziata intorno al 18 grazie alla rassegna di DJ organizzata dall'Associazione Cauta. Dopo i concerti, di nuovo ancora i DJ sul palco fino a tardanotte con Smile Gang ed Euforia. Per visitare Cortona Comics c'è ancora tempo, il Festival del Fumetto si chiuderà domenica 4 giugno.